Quando l'eterea figura emerse dalla boscaglia e si avvicinò, innaturalmente silenziosa, alle sue spalle, Puig ebbe un tuffo al cuore. Lasciò i cani della sua muta a cibarsi dell'interiore del cervo che aveva di fronte. Si girò e fissò terribilmente meravigliato l'uomo comparso improvvisamente, quasi dal nulla. Vestito come un cacciatore, armato come tale, che montava un cavallo come tanti altri ne aveva visti. Eppure, nello sguardo severo di quell'uomo, no, di quell'essere, c'era una potenza antica, un'aura di potere che il giovane principe del Tevet non poté non notare. L'uomo, ammantato di luce pallida, quasi invisibile, scese dalla sua cavalcatura e lo fissò severo, mentre una muta di cani lo raggiungeva, uggiolando. Avevano il pelo candido come la neve che splende al sole, eppure le orecchie erano rosse come il cielo al tramonto. Erano i cani che il principe aveva allontanato poco prima dalla carcassa, in quel momento preda della sua muta di segugi. La scena parva agli occhi di Pulch a dir poco surreale, come se fosse entrato nel regno del sogno, mentre dava la caccia ad un comunissimo cervo, e avrebbe benissimo potuto immaginare di essersi addormentato a cavallo, se non fosse che i suoi comunissimi segugi stavano latrando rumorosamente, mentre consumavano l'interiora della bestia. «Esigo delle spiegazioni», disse il cacciatore ammantato del pallore della luna, mentre uno dei suoi segugi prendeva a strusciarsi sulla sua gamba, spaventato. «Mio signore, io sono Esordipuich», ma l'uomo alzò un lungo dito, pallido e ossuto. «Rincipe, io so chi sei, e certamente non ti saluterò. Esigo delle spiegazioni». Puich sentì infine montare l'orgoglio. «Potete benissimo non salutarmi, se il vostro rango ve lo permette, ma io sono il principe del Devet, e...» «E hai appena allontanato i miei cani dalla preda che io ho abbattuto, privandoli della mia curee, per darla senza permesso ai tuoi, senza offesa bastardini. Io so chi sei, Puich, principe del Devet, ma tu non sai chi sono io, e perciò non sai che ho diritto non solo di non onorarti con una degna presentazione, ma che mio non diritto, ma sacro dovere, importi di ripagarmi». La voce del cacciatore dalla muta di cani dei colori dell'autunno che c'è del passo all'inverno era inflessibile, ma calma, come il suo sguardo. Puich notò anche come le iridi dell'uomo fossero di un innaturale color dorato, eppure non cedette di un millimetro la sua posizione. «Allora ti ripagherò, nella misura in cui il tuo rango lo necessita!» Puich non si sarebbe mai aspettato la risposta che presto il suo interlocutore gli avrebbe dato. Chi poteva essergli superiore nei territori da lui governati? «Ebbene, sappi che io sono re nella terra da cui provengo. Io sono re Araun, signore di Enun, e in quanto tale ti chiederò un risarcimento equo». Il giovane principe, infine, perse buona parte del suo contegno, impallidendo e notando finalmente quanto effimero e distante, seppur a pochi centimetri di lui, fosse l'uomo. No, lo spirito che gli stava innanzi. Nei freddi bisbigli invernali si mormorava il nome di Araun, signore del mondo oltre il mondo dei vivi, il cui nome spesso era Bianco, come Bianco e l'inverno che annunciava con la sua muta di cani pallidi come il latte, ma dalle orecchie fulve come le fiamme. Puich chinò infine il capo, mettendo a tacere i suoi segugi con un gesto nervoso della mano. «Io, signore, io, se torto vi ho fatto, come so di avervi fatto, riscatterò la vostra amicizia. È un onore per me essere al vostro cospetto. Sono contrito di ciò che inconsciamente ho fatto. Come potrò mai riscattare la vostra amicizia e il vostro perdono?» Puich non osò più alzare lo sguardo. «Ma se l'avesse fatto, avrebbe visto Araun, lontano signore delle terre dove i morti camminano come fossero vivi, sorridere. Non dell'umiliazione del mortale di fronte a lui, ma di come lo stesso s'era umiliato senza umiliarsi. Non un pianto, non un tentativo di fuga. Aveva chinato il capo e s'era detto pronto a pagare. Non era da tutti gli uomini reagire in quella maniera, e Araun finalmente guardò il principe per quel che era e soprattutto quel che sarebbe diventato. Attorno al signore dell'oltremondo c'era un'aura di nebbioso potere, ma attorno al ragazzo c'era una splendente aura di gloria che presto tutti, anche i mortali, avrebbero visto. «Non mi vendicherò su di te, Puich, principe del Deved, ma ti farò faticare il perdono, se veramente vorrai farti perdonare.» Puich tornò a fissare il re, carico di speranze. «Qualsiasi cosa, indicami come, lo farò volentieri.» Il signore degli spiriti allora pose una mano sulla spalla del principe e lo invitò a seguirlo. «Bene, prode Puich, allora ascolta cosa faremo di qui al prossimo anno.» Fu così che i due sovrani decisero come avrebbero cementato quella che sarebbe stata un'amicizia passata alla leggenda, mentre le mute dei loro cani, dapprima diffidenti tra loro, resero a mescolarsi, così come avrebbero fatto in occasione delle innumerevoli volte in cui si sarebbero incontrate. Diamo inizio a questa ultima carrellata di video per il mitovembre, non è una settimana precisa perché ci saranno ancora 9 video e non 7 perché un mese è fatto di 30 giorni, come ho scoperto in corso d'opera perché ero convinto che bastassero 28 racconti, invece dice «Ehi, novembre è di 30 giorni, cretino!» È una storia vera, non sto scherzando. Ho 30 anni, ragazzi. Ho dimenticato che novembre ha 30 giorni. Demenza senile, a parte, oggi ci troviamo a commentare questo racconto su richiesta di Mila, che gestisce i canali, la pagina Facebook e la pagina Instagram, Meet, Meets, miti e leggende, che scrive la collana di libri Meet, Meets che tutti quanti sicuramente conoscete, se non la conoscete vi linkerò qualcosa qui in descrizione perché ovviamente dovete conoscere i libri di Mila, sono lo starting point e non solo perfetto per tutte le mitologie possibili e immaginabili, tanto che la serie sul ciclo Breton esiste solo grazie al suo libro e quindi recuperate tutti quanti i suoi libri, mi raccomando, seguitela ovunque, anche su YouTube, mi raccomando perché è anche un canale YouTube, la sua idea è riprendere uno dei racconti più celebri del Mabinogion, raccolta di storie gallesi, che tra l'altro ha dato origine alla leggenda, in qualche modo, dell'incontro fra Gawain e il Cavaliere Verde. Oggi parliamo dell'incontro fra Araune A me è piaciuto scriverlo Mila, ma come ben sai un pochettino ti odio Se andate a leggere il testo del racconto trovate scritti i nomi, come si scrivono, e capirete perché la pronuncia è così strana, solo che il gallese ha queste regole, quindi ho dovuto chiedere proprio a Mila di illuminarmi sulle pronunce di questi due protagonisti, poi ho ricercato le pronunce dei due regni per conto mio, spero di aver dato un ottimo consiglio, un buon consiglio al buon Excel che ha letto questo malopazzo, questo incontro fra due esseri, un principe in terra e un re di un regno etereo, più o meno l'oltretomba, anche se qui ci sono varie discussioni riguardanti chi possa essere effettivamente questo Araun, però è un bel incontro cercato di sottolineare quanto fosse alieno il dio rispetto al mortale, perché nel Mabinogion, tra l'altro è la prima pagina di Mabinogion questo incontro, c'è l'incontro ma viste le interpolazioni cattoliche, anzi cristiane meglio, è tutto molto più umanizzato, tutto molto più ristretto, ma in realtà è letteralmente un giovanissimo mortale che incontra un dio dell'oltretomba, quindi ho voluto sottolineare come Araun fosse alieno, ammantato di questa classica nebbia e luce pallida che hanno gli dei della cultura celtica, in questo caso gallese, e quanto invece Quilch fosse un ragazzino, perché era un ragazzino ai tempi. Spero di aver reso l'idea, io mi sono divertito a scrivere questo incontro, anche perché i dialoghi sono una mezza citazione, molte parti sono riprese proprio dal dialogo originale presente nel Mabinogion, ma poi con delle modifiche per caratterizzare meglio i personaggi che effettivamente nel Mabinogion, specie quello di Araun, non è che sono proprio caratterizzati benissimo. Detto questo, spero che la richiesta di questo racconto sul primo incontro fra Araun e Quilch, detta da Mila, sia stata soddisfatta in pieno e ringrazio Exx della Locanda della Tormenta per essersi legato la lingua più volte a aver pronunciato questi nomi, perché altrimenti non ce l'avrei fatto in altre maniere, quindi grazie davvero ad Excel, visitate il suo canale, iscrivetevi e dite che vi mando io per ringraziarlo dopo l'ictus alla lingua che ha dovuto subire dopo aver letto questo racconto. Detto questo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Alla prossima!